Allora qui siamo nell'area paddock, il pubblico purtroppo non può entrare solo gli addetti ai lavori, allora io approfitto per farvi vedere le macchine che gareggiano qui al motor show nelle esibizioni. Mitsubishi Lancer Evo 6, varie Subaru impresa STI, Porsche GT3 preparate, una meraviglia. Poi sono anche fighi i camion, i motorhome delle squadre, dei team. Pascoliamo ancora un po', gironzoliamo, vediamo cosa c'è. Gran traversi con queste macchine. Qua proprio l'area 4x4, traversi laggiù. Andiamo a vedere, mi sa che c'è un Abarth 695 biposto. Mamma mia, mamma mia. Abarth 695 biposto che, se non sbaglio, è quella che ha fatto la Gumball 3000. Quella gara matta, dove vanno fortissimo su spoglia aperta, che cacchio è? BMW M3 preparatissimissima. Bella, bella, bella. Poi, Alfa Romeo della Supercar, la Safety Car, scusate, non Supercar, la Superbike. Giulietta qua di foglio verde e, figa, fighissima. Alfa Romeo 4C. In questi video dico molto spesso che qua ci sono autofiche, scusate la ripetizione, ma è così. Ah, bella questa, eh. 595 Turismo, grigetto azzurrina, che non so se avete visto qualche video sul nostro canale. L'abbiamo provato anche noi. KTM dell'autodono di Modena, mitica. Nissan Leaf elettrica da corsa. Questa c'è un'accelerazione paura perché coppia subito. GTR Nismo, avete visto che Andrea, ieri, ha fatto il video qua all'area test drive. La potete provare anche voi da passeggeri. Però una bomba 0-100 in meno di 3 secondi. Guarda qui, 605 cavalli se non mi sbaglio, marmittazze. Insomma, una panoramica dell'area paddock del motor show di Bologna. Grazie.